Musica 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 Ci sono ancora posti liberi Si apre la porta di Mandrake Musica E' l'unica valetta Si Da di qui c'è Brimonio varia C'è un autore Chi è che gli hanno fatto? Dove gliel'hai fatta quella foto? 2010 Eh al Bar Sport C'è Era la sua posizione Lui ci ha messo così e gli ha fatto una foto Con Adriano Si scherzava Sempre Ridevamo Ma facevamo sul serio Allora Eravamo in Inghilterra Dovevamo Aggiustare una macchina La Marche Che è una fabbrica di macchine di corso Eravamo in Inghilterra E dovevamo andare a correre Monte Carlo Ma come è di pranzino? Solo che dopo si C'era Tom Price Ci sono i bristi Ci sono i bristi Ci sono tutti i bristi Si era messo lì Era lì che stava Con loro E a certo punto Non passa più La macchina L'ultramortitto E la macchina Spatta Arriviamo a Monza In prove ufficiali Vi fa Ma fermo Ti fermo Con una bandiera Particolare Ah La bandiera nera Con il tuo numero sopra Allora Rietribo Si fa Lei Ha un numero Che i cronometristi Non riescono a leggere Allora Lei deve mettere i numeri bianchi Allora Adriano Vai Vai tu i numeri bianchi Adriano Perché tutte le volte Ti danno i numeri nuovi Non è che Vuoi potersi No, no I numeri nuovi Da te che vieni di su Perché ci sono tanti Allora Vai tu i numeri bianchi Adriano Arriva Adriano E fa I negli bristi Come facciamo? Adesso mi rende E arriva E il friend Arriva Adriano Che ha Un bidone di vernice bianca E un pennello Gium 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 E fai Tutti i numeri Qua e la E in sciacofano E via Dopo 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 Del numero Sopra Allora Arturo E dice Ah no Porca Ma Ho fatto il numero Dal bene Il numero Della camera Della Prendete Adriano Adriano E Raffaele Il mio telefone Perfono Voleva E Un incidente Però Era Un po' grave E Loro 수vane Ed e mi ha detto che c'è che vede un rossi, che ci stracchia i dati. Allora, Marcello, andiamo all'ospedale. Questa è stata trovata ad Adriano, trovata il pittore. Adriano, non sei andato tu, metto il tessuto che ho, per la benzina, hai messo a disposizione, ma questo avrei da pagare un po' che c'è, e gli fratelli, ecco, tu non ti preoccupi, tu non hai la macchina. E tu non lo hai, la macchina, tu non hai la macchina, che vedi al cuore, tu non hai la mia vettina, e tu non hai la macchina, vai in macchina che adesso a mangiare per pagare cosa!